Sessore, un grande successo per il Willab Fest di Pescara ma anche per gli altri eventi che si stanno ottenendo in città in questa lunga estate? Assolutamente sì, Pescara si è dimostrata capace di scegliere eventi di altissima qualità così come avevamo promesso in campagne elettorate. Abbiamo creato dei format che sono destinati a durare nel tempo e sono soprattutto destinati a vendere il format Pescara per far portare sempre più turisti e persone fuori regione nel nostro territorio soprattutto anche alla luce del fatto che siamo stati dopo due anni capaci di prendere la bandiera blu. Abbiamo creato un format, il Willab Fest, che è un format innovativo perché al suo interno contiene eventi di caratura nazionale e internazionale con grandissimi ospiti però abbiamo anche attenzionato le realtà locali. È la prima volta che ciò accade perché da un lato dobbiamo sicuramente dare merito a chi già si è realizzato in una determinata professione e dall'altro dobbiamo cercare di spingere le nostre eccellenze ad andare incontro a successi nazionali e internazionali. Allargando il discorso, Assessore, siamo gli ultimi giorni di agosto, poi ci sarà il mese di settembre, ci saranno anche altri eventi che comunque avete messo in calendario? Assolutamente sì, noi siamo partiti dai primi di agosto e abbiamo già avuto la rappresentante di lista da Sanremo, i The Colors, ieri sera Amy Stewart, questa sera Clementino, domani sera Enula da Amici, ma non finisce qui l'estate pescarese perché partirà il Festival della Rivoluzione in onore del nostro più famoso concittadino Gabriele D'Annunzio e vedremo altri grandissimi eventi tra i quali De Gregori, Battiato, Alice Cantabattiato, Edoardo Bennato, Morgan, insomma un'estate davvero importante da un punto di vista di eventi. Voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale per la fiducia che ci è stata accordata, la Regione Abruzzo nella figura del Presidente Sospiri che si è adoperato per il Festival della Rivoluzione in maniera particolare e voglio ringraziare anche l'ente manifestazioni che ha fatto squadra con noi e che è riuscita a creare anche un festival che fa d'anello tra il Willow Fest e il Festival della Rivoluzione e tra pochi giorni avremo a Pescara, Ariete, Dardast e Levante, altri tre artisti di caratura nazionale davvero davvero interessanti.